Buongiorno a tutti e bentornati o benvenuti su Clary PhysiCare No vabbè, sono appena sveglia, non so se potete notare le mie condizioni indecenti però va bene, non fa niente, non ho problemi a farvi vedere nei modi più disparati non fa struttissimamente niente e siccome era un po' che avevo premeditato di fare una morning routine perché so che è un video molto apprezzato e anche perché comunque è dal 2018, settembre mi sembra che non ne registro una quindi era diciamo un po' ora di aggiornarla e questa sarà una morning routine in edizione estiva che non ho mai fatto quindi se vi interessa questa morning routine seguitemi e vi mostrerò come passo tutta questa mattinata in completo relax perché oggi è stavato mattina, il tempo è un po' incerto, è il mio primo giorno di ferie quindi sono proprio in mood relax estremo e ho deciso di portarvi con me ma prima di seguirmi mi raccomando se ancora non l'avete fatto iscrivetevi cliccando qui sotto e magari attivando anche la campanella lasciate un like di sopporto, io ringrazio tutti gli iscritti della settimana che siete stati veramente tantissimi non so cosa sta succedendo ma mi piace e noi ci vediamo con questa morning routine eccomi qui come potete vedere sono ancora nel mondo dei sogni trovo tutti i miei cuscini super morbidi e solitamente in queste giornate che non sono chissà quanto impegnata non ho chissà quali cose particolari da fare prima delle 9 ovviamente non metto giù neanche un piedino dal letto mi piace girarmi, ricirarmi e stare coccolata sotto le coperte rigorosamente anche se è caldo non rinuncio mai alla mia copertina ma finalmente più o meno una volta arrivate 9 massimo massimo 9 e mezza decido comunque sia di scendere altrimenti poi durante la giornata non combinerei niente quindi mi alzo e per prima cosa quando mi alzo vado a legare tutti questi capelli ricci che se no mi vengono davanti la faccia mi danno un po' fastidio e una volta che ho legato i capelli mi dirigo verso il mio bagnetto una volta arrivata in bagno vado ovviamente come prima cosa a lavare il viso e ultimamente sto utilizzando questo detergente purificante di Deborah Group che è un detergente reperibile d'acqua e sapone e ha un costo adesso non ricordo ma comunque molto basso e mi piace un sacco perché oltre a lasciare la pelle comunque sia molto luminosa lascia anche la pelle molto pulita e lo spargo bene sul viso soprattutto con movimenti circolari e una volta averlo applicato vado a sciacquare il tutto fino a quando poi comunque sia non asciugo tamponando rigorosamente il viso non sfregandolo e una volta che ho fatto solgo i capelli e me ne ritorno in camera perché adesso è giunto il momento che mi vado a cambiare e siccome questa mattina non ho chissà quali impegni vado a prendere la mia diciamo mini tutina da corsa o comunque sia camminata e la indosso per poi dirigermi in cucina e una volta arrivata in cucina bevo rigorosamente molta acqua come poi il resto del giorno è una cosa che ci tengo particolarmente e una volta aver idratato sia il viso che il corpo con l'acqua vado a prepararmi la colazione e ultimamente sto facendo una colazione abbastanza sana e soprattutto veloce perché non ho voglia soprattutto in prima mattina a star preparare chissà quale colazione e quindi solitamente vado a mettere sia il latte che i cereali in una tazza mescolo e poi bevo il contenuto freddo senza neanche scaldarlo e se non voglia a fine colazione vado anche a concedermi un succo di frutta solitamente alla pera eccomi qui, sto gustando la mia colazione una volta terminata la colazione mi dirigo verso il postone di casa metto un cuffietto e occhiali da sole e vado a fare o una camminata di mezz'ora o una camminata più o meno come anche una corsetta una volta tornata a casa non finisce qui vado a fare un po' di riscaldamento e prediligo soprattutto gli esercizi per quanto riguarda glutei e gambe e questi sono gli squat che faccio ormai tranquillamente non mi sono più faticosi da quando ho preso il ritmo e una volta fatti gli squat con questa grande palla gym, non mi ricordo come si chiama vado a fare anche gli addominali e una volta finito tutto il mio workout vado ovviamente a farmi una doccia rinfrescante molto veloce eccomi qui, ho appena finito la doccia ho scelto questo outfit molto leggero e fresco e semplice soprattutto eccomi qui e ormai non mi rimane che preparare il viso a un leggero make up e come prima cosa vado ad applicare una crema contorno occhi e questa è una crema contorno occhi al Q10 di Nivea che non mi fa impazzire ma comunque non è per niente male e dopo aver utilizzato questa crema in abbinamento sempre di Nivea vado ad utilizzare questo fluido perfezionatore della pelle come base e è una base abbastanza leggera soprattutto per l'estate quindi vado a stendere questo senza né siero né nient'altro e ovviamente sempre con movimenti circolari una volta stesse le varie basi vado per prima cosa a prendermi cura delle mie sopracciglia e vado ad utilizzare questa matita di Maybelline per definire un po' le sopracciglia soprattutto riempirle e in abbinamento a questa matita vado a mettere il Bro Drama che è il suo fissatore per dargli sia la forma che fissare anche la matita precedentemente stesa e una volta aver fatto le sopracciglia vado a fare tutto il viso in generale e vado ad utilizzare questa terra di Kiko che si rifà un po' la terra di Diego della Palma che è una terra comunque sia molto profumata innanzitutto e che all'interno ha dei pigmenti riflettenti che a me piace tantissimo uniforme all'incarnato con veramente pochissimo prodotto e sono stra-innamorata Kiko la ripropone tutti gli anni e io soprattutto ve la stra-consiglio una volta terminata la terra vado a utilizzare il correttore questo è il mio amato Concealer Define di Makeup Revolution lo adoro veramente alla follia ne stendo un pochino sotto l'occhio per poi uniformarlo con questo applicatore che è veramente super super comodo una volta averlo steso però comunque sia preferisco sempre andarlo a sfumare con la spugnetta per dare proprio un effetto naturale all'occhio ecco mi qui adesso passo al trucco degli occhi e vado a prendere questa grandissima palette di Pupa che ha veramente tantissimi colori con cui ci si può proprio smizzarrire alla follia e oggi vado a realizzare un make-up molto semplice sui toni del nude e per prima cosa vado a utilizzare un marroncino molto chiaro sulla piega palpebrale sfumandolo in entrambi gli occhi logicamente una volta sfuminata la piega palpebrale vado a mettere un po' di colore marroncino leggermente più scuro alla fine dell'occhio per dare un po' di intensità allo sguardo come potete vedere dopodiché con un pennello pulito vado a mettere un marroncino estremamente chiaro all'inizio dell'occhio per poi in ultimo andare a sfumare il tutto e unire tutte le varie colorazioni vado a fare gli stessi passaggi sotto a mettere sia il colore più scuro alla fine dell'occhio sia il colore più chiaro all'inizio per dare luminosità lo sguardo una volta costeso tutti gli ombretti vado a definire in ultimo proprio l'occhio con una riga di eyeliner e lo scelgo marrone proprio per restare sempre più naturale possibile anche se l'eyeliner comunque non è che ha più a chissà quanto di naturale ma mi piace veramente tantissimo perché dona una definizione all'occhio che non ha ma è uguali secondo me una volta terminato anche con l'eyeliner procedo veramente con l'ultimo step sia vado a mettere questo mascara qui che l'avrete visto già nei vari social che lo sto utilizzando nell'ultimo periodo è il nuovo mascara all in one di pupa che mi ha mi ha regalato l'azienda e mi piace tantissimo adoro il fatto che me l'abbiano fatto provare adoro il fatto che renda soprattutto queste le ciglia come se fosse veramente effetto ciglia finte mi piace tantissimo perché io ho gli occhi chiari e mi stanno veramente bene queste ciglia voluminosissime e per ultima cosa non scordiamoci della bocca vado ad applicare sempre questo rossetto liquido della essence che è sempre un tono abbastanza nude lo stendo perfettamente e eccomi qui il look è ultimato ma manca veramente solamente una cosa ossia l'illuminante che è un prodotto che adoro particolarmente e che soprattutto d'estate non ne faccio a meno lo vado a prendere oro lo metto sugli zigomi e subito lo sguardo prende una luminosità veramente che fa la differenza secondo me e eccomi qui il make up è terminato spero tanto che vi piaccia allora questa è la mia morning routine e sta volgendo il termine praticamente è finita non vado ad acconciare i capelli perché mi acconcia direttamente madre natura non so non devo fare niente l'ho solamente legati qua lateralmente perché ne è tanti e non respiro è troppo caldo ok questa qui è la mia morning routine che vado a fare quando ho una giornata di relax che non ho chissà quali cose particolari da fare anche se mi sono resa conto che devo fare un paio di giri adesso quindi uscirò e andrò a farli delle commissioni varie così e io vi saluto vi do un super mega bacio vi ringrazio come sempre di avermi seguito e soprattutto ringrazio sempre i nuovi iscritti e noi ci vediamo la settimana prossima sul mio canale con un nuovissimo video baci